I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri, in base al DMC numero 145 del 203 2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolare dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Se ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Ed eccoci qua anche nell'appuntamento delle venti dopo esserci visti oggi pomeriggio una bella ora baciati dal sole di Milano. Finalmente è questa puntata che dura un po' di meno mezz'ora ma comunque i consigli quelli ovviamente non mancheranno di nuovo insieme anche in questo appuntamento quindi lo vado a salutare per entrare nel vivo della puntata. Buonasera Lio. Non mancheranno le nuove condizioni, non mancheranno le vincite di ieri sera, magari andremo a vedere anche qualche altra vincita di questo mese di maggio che sicuramente è partito alla stragrande. Perciò rimanete con noi perché sarà estremamente importante. Noi intanto già ci siamo visti anche questo pomeriggio, allora Sheila se vuoi dare l'anticipazione magari delle notizie, della notizia che riusciremo a fare vai pure e poi ci dedicheremo un po' al pratico di questa diretta. Vediamo quale andremo a scegliere, comunque abbiamo il re Carlo, poi abbiamo David Baker e poi la nostra rubrica dedicata agli amici animali, il protagonista è un cane. Vediamo, tra poco scopriremo cosa riusciremo a trattare. Intanto tu sei pronto, ieri ricollegato con Marco o 90? 90 Venezia, quindi un bellissimo ambo a ruota, tutte le ruote, adesso ci arriveremo anche a questo 90, ma partiamo dalla ruota dell'otto di Bari, dove l'arrivo del 23 centenario della ruota dell'otto di Bari, ricordo che è uscito a 105 estrazioni di ritardo. Beh, attenzione perché vi avevo proprio portato io l'otto segreto nel classico terno 9-23-68 alla ruota dell'otto di Bari ed ecco che proprio ieri sera 23-68 non è mancato alla ruota dell'otto di Bari, quindi anche questo un altro ambo sempre di l'otto segreto. Perciò grazie perché molti di voi hanno valutato questa informazione e hanno vinto questo ambo secco nei tre numeri, beh, potevate fare l'ambo secco perché il 23 era capogioco da abbinare una volta al 9 e una volta al 68. Ruota dell'otto di Cagliari 2-11, altro ambo, figura 2 in questo caso proprio per Cagliari, ruota dell'otto di Roma 6-58, altro ambo, sempre ambo secco, come vedete la nostra ristrettezza numerica conferma gli ambi secchi o massimo nei tre numeri. Venezia 90, beh, era attesissimo il 90 alla ruota dell'otto di Venezia e anche questo ce lo siamo ben portati a casa. Occhio adesso ancora a Torino e a Bari perché questo è imminente Venezia 6-6-90, quindi questo è il primo ambo anche al primo colpo di gioco perché questo 6-90 era anche in lotto flash, anche a tutte le ruote, e ce ne sono veramente tanti discontrini anche per tutte le ruote, 60-90 sempre alla ruota dell'otto di Venezia, beh, anche questo è stato sicuramente molto bello, molto interessante come ambo simmetrico sempre del 90. Poi veramente tantissimi ambi a tutte le ruote come il 5-6, il 6 con il 90, il 43-74, 56-80, vabbè, a tutte le ruote sono dei recuperi o delle piccole vincite. Sabato 9-10, ruota nazionale, un altro fantastico primo colpo, beh, anche questo è stato assolutamente importante, molto interessante. Venerdì 17-48, ruota dell'otto di Genova, come a Genova il 17-71, vedete, sono sempre ambi secchi, quindi altri ambi anche per tutte le ruote. Il terno 5-60-75, questo è arrivato a tutte le ruote e su più numeri, però anche questo è un recupero. Senz'altro giovedì con il 17-19 a Palermo, con il Roma 85-90, quindi sempre come ambo e anche ambo secco, e poi con i due terni di giovedì scorso, quindi neanche di una settimana fa, 1-4-12 è arrivato secco a tutte le ruote per Firenze e il 27-28-72 è arrivato secco per Milano, beh, dobbiamo appunto dire che questo mese di maggio è iniziato veramente alla stragrande. Allora attenzione perché vogliamo continuare a cavalcare quest'ondata sicuramente molto importante con un numero un po' assente, un 88, l'assenza dell'88, beh, ci fa pensare, quindi l'88 proprio è importante per domani sera e proprio nella ricerca tecnica e statistica di ieri sera io e Marco abbiamo trovato, perciò ho valutato anche questo 88, appunto da due metodi completamente differenti. e allora nasce l'unione fa la forza, sapete che l'unione fa la forza io e Marco ve la portiamo quando da metodi completamente diversi abbiamo dei numeri che coincidono e attenzione perché ora vi sveliamo i due ambi più forti dell'88 con l'unione fa la forza e allora attenzione perché quest'88 sarà da abbinare con il mio abbinamento, con l'abbinamento di Marco nei due numeri più frequenti di quando arriva l'88 e allora io vado in redazione perché in questo mercoledì sera c'è una fantastica sorpresa e vi voglio anticipare che sarà nel portale che amate tanto, ovvero quello al costo di un caffè, andiamo di là! Bene, allora iniziamo alla grande in questo mercoledì sera con il portale che vi piace tanto, quello che vi permette già di risparmiare sul costo della telefonata, eccolo qua, 89 22 88, ripeto 89 22 88, dopo il tasto 3 da rete fissa, chiamate dai cellulari, avrete la possibilità di avere i due ambi secchi dell'88 un 88 sicuramente molto importante, attenzione perché questo 88 è un pelino in ritardo ma tranquilli perché l'88 riprenderà il suo ciclo di iperfrequenza e allora da tecniche completamente diverse io e Marco abbiamo valutato chiaramente l'88 con il mio abbinamento e con l'abbinamento di Marco e allora attenzione perché questi sono i due ambi più forti dell'88, fateli vostri adesso all'89 22 88, tasto 3 il portale costa poco più di un euro da rete fissa dai cellulari per tutta la durata della chiamata e sarà veramente il momento di esserci per questa informazione veramente spettacolare e sarà veramente il momento di esserci per questa informazione veramente spettacolare ma cancellarti sai che bella storia prima dal mondo poi dalla mia memoria grande gina del sergente spiancante soda caustica abrasiva irritate spregando in ginocchiata come in preghiera non mi sono mai sentita così leggera macchia dopo macchia bene andrai bianca come neve i derai macchia dopo macchia svanirai bianca come neve bianca come neve Grazie a tutti. Tu non sei, tu che hai bruciato tutti i giorni miei, di te per sempre mi son liberata, con te all'inferno sono andata e tornata. Candecina detergente spiancante, soda caustica abrasiva irritante, fregando in ginocchiata come in preghiera, non mi son mai sentita così nera. Macchia dopo macchia te ne andrai, bianca come neve ti verrai. Macchia dopo macchia, svanirai. Bye bye. Bye bye. Bye bye. I think I'm gonna be sad. I think it's today, yeah. The coldest juggly man is going away. She's got a ticket to ride. Bene, allora siamo partiti veramente alla grande in questo mercoledì sera. Io con Marco vi ringraziamo veramente di cuore perché già molte persone hanno ascoltato questa informazione. Fate tesoro di questi due ambisecchi che si possono unificare in ambo terno secco. Quindi un fantastico 88 da valutare appunto in ambo secco, in ambo terno secco. Ancora vostra all'892288. Shela, so che Shela ha già delle richieste. Assolutamente sì. Ieri ci hanno fatto felici perché sono usciti, ci hanno fatto anche vincere. Però li vorremmo anche vedere insieme. Parlo del 9 e del 90. Ed è proprio il consiglio che sta arrivando nuovo da parte dei nostri esperti. Allora sì, lo attenzioniamo ancora domani sera a questo 9 e 90 perché da condizione, da somma, da tecnica figurale dobbiamo valutare quindi il 9 e 90. Ci sarà un solo abbinamento veramente fantastico anche perché è proprio nella figura 9 quindi questo fa sicuramente la differenza. E poi ci sarà l'ambo con il 9 e l'ambo con il 90. E allora attenzione perché per quello che riguarda il 90 è sicuramente importante in questo momento perché appartiene anche ai numeri frequenti. Il 9 è un pelino in ritardo e allora per un rapporto anche di ritardo e di frequenza del 9 e 90 questo sarà da tentare appunto con un solo abbinamento. Bene, il portale vi dà ora della fine questa ristretta fondamentale. Due ambisecchi e un solo un unico terno secco. Andiamo di là. Bene, allora 9 e 90 con un solo abbinamento. Veramente importante questo abbinamento quindi valutiamolo una volta con il 9 e una volta con il 90 o direttamente valutiamolo in ambo terno secco. Il portale 895 095 vi permette di avere anche l'ambo con il numeretto 9 e chiaramente l'ambo con il 90 perciò tutto e solo sul 9 90 di maggio tramite l'895 095 sempre tasto 3 da rete fissa chiamate dai cellulari. Beh, questa è una dritta fondamentale proprio per l'estrazione di domani sera perché l'arrivo del 90 a Venezia e del 9 alla ruota dell'8 di Palermo ci hanno permesso anche di poter valutare il nuovo 9 90. Via con le vostre chiamate adesso 895 095 tasto 3. Quel che provo è un sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad agrigento con l'estate in progressione, mentre la mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perdere. Per la ragione, per la ragione, quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad agrigento, io mi apro al tradimento, mentre la mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perdere. Tra le onde di passione, fino a perdere la ragione. Mentre la mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, mentre la mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perdere la ragione, fino a perdere la ragione. Mentre la mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, ho trovato una ragione. Mentre la mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu, tra le onde di passione, ho trovato una ragione. Mentre la mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu, tra le onde di passione, ho trovato una ragione. Mentre la mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu, tra le onde di passione, ho trovato una ragione. Mentre la mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu, tra le onde di passione, ho trovato una ragione. Mentre la mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu, tra le onde di passione, ho trovato una ragione. Bene, allora, questo è il 9.90 di Lio e di Marco per domani sera. Un solo abbinamento, un fantastico abbinamento da costare una volta al 9, una volta al 90, o da utilizzare direttamente in ambo terno secco. Quindi avete veramente la possibilità di scegliere come valutare questo abbinamento del 9.90. Tanto è un solo abbinamento, perciò lo potete girare anche in ambo secco e poi in ambo terno secco. E poi ambo col 9 e ambo con il 90 ancora vostri all'895 095. Adesso ci sarà appunto la notizia e poi rimanete con noi perché a grande richiesta l'8 segreto con l'ambo segreto. Beh, ci sta. Dopo la vincita di ieri sera del 2368 c'è un nuovo ambo secco, ambo segreto. Vi spoilerò che sarà l'ambo con l'81 e allora Sheila vai con la notizia. Bene, allora tra poco vediamo da te Lio. Per la gioia di voi donzelle, ho pensato a voi, la notizia è quella dedicata a David Beckham. Perché dopo aver parlato dei festeggiamenti della moglie, Victoria, qualche giorno fa, insomma la scorsa settimana, adesso è toccato a lui spegnere 49 candeline e ha postato, insomma, la prima foto l'abbiamo vista, questi addominali scolpiti proprio nel giorno del suo 49esimo compleanno. e sua moglie, appunto, Victoria, ha commentato, intanto gli ha festeggiati il 2 maggio e ha deciso di mostrare al mondo, lei, il fisico scolpito, insomma, di suo marito. Lo ha fatto postando su Instagram una clip, che è quella che abbiamo visto, penso sia la prima foto, in cui appare mentre si allena, anche qua, in palestra, proprio nel giorno sempre del suo compleanno. Lui sorride e flette i muscoli, insomma, in modo abbastanza scherzoso, è comunque un bel uomo, lo è sempre stato, eh. E la moglie dice, il festeggiato fa un allenamento il giorno del compleanno, non sembra per niente male, e beh, insomma, direi. Gli addominali sono scolpiti, indossa solo un paio di pantaloncini molto corti, e lascia poco all'immaginazione, e beh, donne qua, scateniamoci. Intanto solo il mese scorso la coppia ha celebrato in grande stile, appunto, come vi dicevo, il 51 anni di Vittoria, che gli ha fatti il 16 aprile, noi ne abbiamo parlato. Hanno organizzato questo mega party, insomma, a Londra, con un sacco di invitati, e poi lui, come regalo, ha portato tutta la famiglia in Francia con un jet privato, insieme, insomma, ai figli. E due compleanni vicini, due grandi belle feste, quindi bellissima coppia, lo abbiamo già detto quando abbiamo parlato dei festeggiamenti di lei, e bello. Beh, sì, sicuramente arrivare a 49 anni così. Lui è veramente proprio, è bello come il sole, mamma mia, è sempre stato bello, ma più passano gli anni e più, insomma, diventa anche... Sì, anche affascinante, oltre a bellezza, molto fascino, sicuramente una bella coppia che dura, non avrei dato un euro per questa coppia, invece, molto bene perché ci stanno riuscendo, e comunque è chiaro che comunque l'attività fisica è sicuramente importante per avere gli addominali, non solo, vale molto anche l'alimentazione, perché è la cosa principale e fondamentale, e poi anche un po' la costituzione, dobbiamo dirlo. Qualcosa, dovete sapere che l'io da che proprio in palestra, ma neanche un centesimo io anni fa avrei scommesso di vedere l'io in palestra, lui lo sa, e niente, un giorno è andato, ho provato, basta, sapete quelli proprio fissati? Però, insomma, ti fa star bene, a parte lo sport in generale, fa bene, fa bene alla mente, fa bene alla salute, al fisico. Beh sì, ci sono sicuramente una serie di cose che portano beneficio, quindi poco o tanto, l'importante è fare qualcosa. A me spiace per quelli sedentari, perché poi dopo con gli anni ne risentono, poi è vero che c'è chi ha pochissimo tempo, però anche in quel poco spazio basta magari fare anche solo le scale a piedi senza chiamare l'ascensore, insomma, piccole cure quotidiane che volendo, anche se non abbiamo tempo di andare in palestra ad allenarci, qualcosina si può sempre fare. Beh, volere è potere, comunque. Eh, lo so, anche questo è vero. Perché adesso anche su YouTube... Poi prevale la pigrizza su molte persone. Certo, ci sono sempre anche tanti tutorial. Conosciamo, ne conosciamo uno. Sì, tutorial brava che ti permettono appunto di fare qualcosa. Oh, adesso c'è il mondo su YouTube. Niente scuse. No, no, è vero, non siete perdonati. Allora, chiudiamo la diretta di questo mercoledì sera con l'attrice Dambi nello speciale maggio, con Ambo Segreto, nuovo fiammante dopo l'arrivo del 2368 alla ruota dell'Otto di Bari, nuovo Ambo Secco. Ci sarà l'Ambo Vertibile e l'Ambo Privato del numeretto 2. Tre Ambi Secchi, i migliori in assoluto, i più forti di sempre. E poi attenzione perché nel portale ci sarà una plus fantastica, ovvero il terno di numeretti, un ottimo terno secco. E allora, redazione per questa ultima proposta. Andiamo di là. Bene, allora, chiudiamo con l'892277, altro portale sicuramente importantissimo, dove avrete la possibilità di avere l'attrice Dambi di maggio, quindi Ambo Segreto sarà un Ambo Secco con l'81. Valutatela attentamente perché è super importante questo Ambo Secco di due numeri, Ambo Vertibile e Ambo Privato, è quello col numeretto 2. Poi attenzione, il terno di numeretti, un ottimo terno secco, perciò questa Trisambi appartiene un po' anche a Chiamata Unica, ora vostra all'892277. Ripeto, 892277, solo tre Ambi e un fantastico terno secco. Sei l'ora in cammino, amica del mattino, il tempo di ogni giorno, casa a cui ritorno. Tu sei l'acqua marina, il verde di collina, la luce di ogni sera. Sarà sempre vera, è la voce tu sei, di tutti i giorni miei. Pensiero che va, che via mi porterà. Tu sei quella aspettata, la donna ritrovata, è sempre bella attesa, bellissima sorpresa. Tu sei, madre di pace, sorriso che mi piace, mio bosco, mio giardino, e sarà qui vicino. E la voce tu sei, di tutti i giorni miei. Pensiero che va, che via mi porterà. E la voce tu sei, di tutti i giorni miei. E la voce tu sei, di tutti i giorni miei. Pensiero che va, che via mi porterà. Tu sei l'ora in cammino, amica del mattino, il tempo di ogni giorno, e casa a cui ritorno. Tu sei l'acqua marina, il verde di collina, la luce di ogni sera e sarà sempre vera. Allora, eccoci pochi secondi per salutarvi, ringraziarvi per aver seguito anche questa puntata, ovviamente, della sera. Grazie a Lio, grazie a tutti i ragazzi in regia, e Casalotto ovviamente torna domani un'altra estrazione, è la mia settimana lunga, quindi ci sarò io pomeriggio e sera ad aspettarvi. Certo che sì, grazie a te Scela in studio, grazie a Marco e a tutti voi per aver seguito questa diretta. I portali sono sempre a vostra disposizione, quindi potete chiaramente aggiornare le informazioni per domani sera. Buona continuazione e buona serata. Grazie ancora, ciao a tutti!